Allora, intanto spero che se sale Orlando qualcosa possa cambiare in questa città e che dia la possibilità a noi giovani di rimanere qui, non di scappare fuori e quindi quello che ci fa andare fuori è la possibilità di trovare lavoro, la possibilità di una città civile, pulita, che dia spazio anche alla cultura, degli eventi che per Palermo ormai non esistono più, in minima parte, anche degli spazi in cui noi giovani ci possiamo incontrare, discutere di problematiche, soprattutto in una città più pulita, meno spazzature in giro. Quindi il 7 maggio cosa tu ti auspichi per questa città, oltre a queste cose, quale potrebbero essere? Sicuramente spazio giovani, nel senso più eventi per loro, più eventi culturali in generale, poi anche più possibilità di lavoro per noi, e anche un'università più aperta anche all'estero in generale. Grazie, grazie. Grazie, grazie.